e badram e l'essitocast di dietro prova la progressione di Sicomoro che si affaccia sull'Essitocast con badram e richiesto per allungare accorcia Fabio e le regni rimette la frusta a sinistra per scappare dall'Essitocast in mezzo alla pista l'allungo tentato da Sicomoro per andarla a prendere con Fabio contro Claudio come era a Bulgari qualche tempo fa badram che sta allungando poi prova anche Coccoloba dall'ultima posizione badram in vantaggio il ticket per il Pisa è servito Coccoloba va a prendere il secondo posto coprendo Voices from War il minimo indispensabile per badram Fabio Branca grazie a Dormello il giata Riccardo Santini badram che batte Coccoloba bene nel finale a precedere Voices from War quarto attiro Sicomoro rivedibile e qui indietro Lexington Cast nulla da dire bel cavallo bel prospetto e probabilmente tra quattro settimane sarà un fattore nel premio Pisa edizione numero 130 in testa dal primo metro sentiamo un po' da Fabio che sensazioni ha avuto sul badram non riesce neanche ad avvicinarmi è andato benissimo ci aspettavamo è un bel cavallo è un bel cavallo si e se la ride Fabio Branca dalla sella di badram che si afferma nel 53esimo premio Thomas Rook e si prepara ad affrontare probabilmente da favorita il premio Pisa grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.